Qui verrà Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video Allora oggi apriremo 4 bustine dei calciatori panini classiche E poi apriremo questo topolino che aveva in omaggio l'album dei calciatori panini 2016-2017 Più una bustina in omaggio che essendo in omaggio appunto è di colore giallo al posto del colore solito verde E probabilmente troveremo all'interno dell'album altre 6 cart Speriamo di trovarle, quelle sono però tutte della serie A Procedete voi con l'apertura ragazzi Iniziamo con la prima bustina dei calciatori Ovviamente la collezione è quasi in via di termine Quindi speriamo di non trovare troppi doppioni Qualcuno del Napoli piacerebbe sempre Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare Allora iniziamo, purtroppo non abbiamo vinto Ragazzi tra l'altro il contest probabilmente sarà già uscito Zarate abbiamo Io non sono aggiornata sulla collezione quindi non so se sono No no questo è doppio doppio Peccato Poi abbiamo tre giocatori dell'Ascoli Che forse mi mancano Perché non ricordo di averli Poi abbiamo Suso che non ricordo Però è un bel giocatore comunque lo stimolo veramente tanto Vediamo un po' che abbiamo La squadra della Juve questa è già doppia E c'è un'ultima carta E del Chievo Dainelli che già abbiamo Peccato quindi non è stato proprio un ottimo No forse una carta che manca Che comunque fa sempre bene trovare Vai Simone con il secondo Proviamo E speriamo con hashtag la manita magica Hashtag la manita magica ragazzi Speriamo bene dai ragazzi Qualche carta mancante Non serve per farci un'ultima del Napoli Qualche carta mancante andrebbe già venita Non abbiamo vinto Come al solito E ok Oh Questa qua è La carta dei giovani Pasalic E Plizzari Mi manca Bello Ottimo La manita magica colpisce ancora Vedete uno del Napoli Se non mi sbaglio è Diavara Con il suo capello magico Oh oh Anche Diavara Doppiole Già triplole La manita magica Funziona Oddio Oh mio Dio Ho trovato un altro record Non ci credo La manita magica ragazzi Totti Finalmente Totti in piedi Questo è il record di Totti Mi sembra per i gol Bellissimo La mia mano è fantastica ragazzi La manita magica Oh Doppia Non si ne posso trovare due in uno solo Doppia record in un pacchetto Oh mio Dio Ragazzi Hashtag La manita super magica Oddio Due record in un pacchetto Io trovo i pacchetti Incredibile No ragazzi Penso che Meglio della manita magica Non si possa fare Io penso Che sia uno dei migliori pacchetti Mi hai trovato Non abbiamo Cioè abbiamo trovato Sia il giocatore del Napoli Che volevamo Sia una carta dei record Un doppione di una carta dei record Mancava solo che vincessimo Un pacchetto fantastico Meraviglioso ragazzi Meraviglioso Passiamo al terzo Terzo pacchetto Penso di non poterla battere No la manita magica È imbattibile Totti record È bellissimo Io voglio trovare Quello di Guain però Lo voglio trovare Ok Non abbiamo vinto Non fa niente Quagliarella Probabilmente Sì mi manca Penso che mi manca Sì sì mi manca Noi giocatori più affezionati A Napoli di tutti E che nonostante È andato via Per la Juve Alla fine Ogni gol che fa Al Napoli Non esulta mai Quindi molto spesso Non giocava nemmeno Contro Napoli Penso di no Ottimo Sono Flores Mi manca Se non mi sbaglio Bene Manolas mi manca Ottimo Che pacchetto La manita magica Numero due La manita magica Parte due È la squadra del Chievo Che mi manca Meraviglioso Capertura Oggi completiamo l'album Ragazzi Nessun doppione In questo pacchetto Ho sbaglio No nessun doppione Fantastico Devo solo controllare Quelli della data Fantastico Vediamo se la manita magica Non da un po' Ci può portare fortuna Per questo ultimo pacchetto Speriamo bene Dai ragazzi Dai ragazzi Uno del Napoli Che mi manca Una record Credo che questo sia Uno dei migliori Uno dei migliori Uno dei migliori Sempre sì Ok non abbiamo vinto Non abbiamo vinto Ok Oh no La Coppa Va bene Va bene Poi Vede il Vicenza Che vabbè Già ho da Da tempo Oh questo È scuffe Già lo dovremmo avere Peccato Giomari Ottimo Giomari dell'Inter E Salamo che mi manca Bellissimo Altri due Che mancano Fantastico Benissimo ragazzi Ottimo queste bustine Ottimo Ora direi di aprire Questo topolino Con l'omaggio Sperando di trovare Altri giocatori mancanti Vista la fortuna di oggi Penso che siamo sulla buona strada Per completare l'album Ok andiamo Subito ad unboxare L'album ovviamente Noi già ce l'abbiamo Ma Penso lo conserverò Comunque per ricordo Più la bustina L'omaggio Speriamo di trovare Ragazzi dei giocatori Che ci mancano Magari qualcuno del Napoli Ok ci siamo quasi riusciti Eccoci qua Allora via la carta Perfetto Allora qui abbiamo Vabbè il topolino Che è attaccato con la colla Che odio Ok abbiamo un topolino Normalissimo Dietro si pubblicizza Alla ricerca di Dori E niente Vabbè Un numero normalissimo Qui abbiamo l'album Vediamo se ci sono carte dentro Sì Ottimo Buonaventura Saponara Tutte e due ce le ho Vediamo qui invece Ok li ho tutti Vabbè Va benissimo La fortuna non può essere Ebbene non è la manita Prima di aprire questo pacchetto dorato Salutiamo il nostro amico SharkShadow88 Che ha chiesto di essere salutato in un video Ciao Ciao SharkShadow Grazie mille per il supporto Andiamo con quest'ultima bustina di oggi La quinta Speriamo sia fortunata Ok Due scudettini che mi mancano Ho finito l'Ellas Verona ragazzi Mi mancava lo scudetto dell'Ellas Fantastico L'ho finito Uno dei migliori unboxing di sempre No questa mi manca anche dell'Avellino Ottimo Squadra dell'Avellino che mi manca Squadra dell'Udinese che non so E Izzo che mi manca Ragazzi Che apertura Che apertura Abbiamo completato l'album in un video Ho finito l'album in un video Pensavamo di trovare tutte le doppie Perché eravamo ormai arrivati a Quante carte? Più della metà sicuramente 500 praticamente 500 carte E invece E invece Meraviglioso ragazzi Meraviglioso Direi di fare un resoconto Di quello che abbiamo trovato Ok vediamo un po' Vediamo un po' Sicuramente Joe Mario Uno dei migliori che abbiamo trovato Poi vabbè Questo è il trofeo della serie A Questo pacchetto è il migliore Con Manolas mancante Floroflores mancante Questi tre giocatori mancanti Anche Quagliarella La mia manita magica Ragazzi non scherziamo proprio perché la mia super manita ha trovato addirittura Due carte record In un solo pacchetto Quando invece non siamo riusciti a trovarne per vari spacchettamenti Vediamo un po' cosa dice la gazzetta Totti in piedi Fantastico Tra l'altro qui c'è anche Pogba E qui vabbè Quella che abbiamo già trovato nello scorso video Che è un doppione Va benissimo Noi fateci sapere se qualche doppione dei nostri vi interessa Ci mettiamo in contatto Qui abbiamo Diavara che è triplone Questa carta che è anche mancante Anche questa E anche queste tre carte mancanti Dunque tantissime belle carte mancanti Abbiamo in mente un nuovo contest Vorremmo regalarvi alcuni dei nostri doppioni Troveremo un modo per organizzarci Magari se avete qualche idea Per le spedizioni Oppure sul come fare gli scambi Suggeritene nei commenti Sì ci farebbe molto piacere Bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato Mettete un bel mi piace al canale Se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Da Paloma al Comics è tutto E ci vediamo in un prossimo video Bella